Ciao a tutti e benvenuti in questo video, dove vi mostreremo i 5 migliori piano cottura ad induzione sul mercato. In questo video vi mostreremo le caratteristiche e i prezzi dei fornelli a induzione più popolari, in modo da poter scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze, per aiutare a migliorare la qualità della vostra vita. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo Jonien. Questo piano cottura offre 4 ampie zone di cottura a induzione, ciascuna con diverse dimensioni per adattarsi a pentole e padelle di varie grandezze. Grazie alla tecnologia a induzione, le temperature sono regolate in modo preciso, consentendo una cottura uniforme e rapida. L'interfaccia di controllo tattile è elegante e facile da usare. Puoi regolare la potenza e la temperatura con un semplice tocco, consentendo una regolazione precisa per ogni ricetta. La sicurezza è una priorità. ogni zona di cottura è dotata di un rilevamento automatico delle pentole, che attiva il riscaldamento solo quando una pentola è posizionata sulla superficie. Inoltre, c'è una funzione di spegnimento automatico che entra in azione se il piano cottura è lasciato incustodito per un periodo prolungato. Presenta un design moderno e minimalista con una superficie in vetro ceramico nero lucido, che si adatta a qualsiasi stile di cucina. È facile da pulire e aggiunge un tocco di raffinatezza all'ambiente. Grazie alla tecnologia a induzione, questo piano cottura è notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali fornelli elettrici o a gas. Ciò significa che risparmierai energia e denaro a lungo termine. È una scelta intelligente per coloro che desiderano un piano cottura elettrico di alta qualità che combini prestazioni avanzate con uno stile senza tempo. Aggiungi questo elegante pezzo di tecnologia alla tua cucina e scopri una nuova dimensione nella preparazione dei tuoi pasti. Il prezzo è di 199 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Electrolux. Questo straordinario piano cottura ad induzione si fonde perfettamente con il tuo ambiente, garantendo un'esperienza di cottura senza precedenti. Questo piano cottura offre quattro zone di cottura ad induzione, ognuna progettata per adattarsi a diverse dimensioni di pentole e padelle. La tecnologia ad induzione riscalda in modo rapido ed uniforme, offrendo la massima flessibilità per cucinare in modo efficiente. Con i comandi Slider Touch potrai regolare facilmente la temperatura e la potenza con un semplice tocco e scorrimento. Questa interfaccia utente intuitiva ti permette di controllare la cottura in modo preciso e personalizzato. È un concentrato di eleganza, grazie al suo elegante design nero. La superficie in vetro ceramico aggiunge un tocco di modernità a qualsiasi cucina e si pulisce con facilità, mantenendo l'aspetto impeccabile nel tempo. Questo piano cottura è dotato di numerose funzioni di sicurezza, tra cui il rilevamento automatico delle pentole, che attiva il riscaldamento solo quando una pentola è posizionata sulla zona di cottura. Inoltre, offre una funzione di spegnimento automatico per la tua tranquillità. Prepara piatti deliziosi con facilità e stile. Goditi la versatilità, la precisione e l'eleganza. Il prezzo è di 250 euro. Prima di continuare ad elencarti i migliori fornelli ad induzione in vendita sul web, ti ricordo di attivare la campanella e di iscriverti al canale per non perderti le recensioni sui migliori prodotti di ogni categoria presenti online. Numero 3. Al terzo posto troviamo Hisense. Questo piano cottura a induzione è progettato per offrire una cottura rapida, precisa ed efficiente, con una serie di funzionalità che lo rendono un'aggiunta sorprendente alla tua cucina. La funzione Power Boost permette di riscaldare rapidamente le pentole e le padelle, risparmiando tempo prezioso nella preparazione dei pasti. Grazie al timer di cottura integrato, puoi impostare il tempo di cottura desiderato per ogni zona di cottura. Il piano cottura si spegnerà automaticamente una volta scaduto il tempo impostato, garantendo una cottura precisa e senza rischi di bruciature. Con una superficie in vetro ceramica nera lucida, il piano cottura aggiunge un tocco di modernità e raffinatezza alla tua cucina. Il design pulito è facile da pulire e si integra perfettamente in qualsiasi arredamento. Il controllo tattile offre un'interfaccia utente intuitiva e semplice da utilizzare. Regola la potenza e la temperatura con un tocco, offrendo il massimo controllo durante la cottura. Queste caratteristiche garantiscono una cottura sicura e affidabile. Se sei alla ricerca di un piano cottura a induzione che unisca potenza, precisione e stile, è la scelta perfetta. Riscopri il piacere di cucinare con efficienza e senza complicazioni, grazie a questa straordinaria aggiunta alla tua cucina. Al secondo posto troviamo charra. Con una potenza totale di 7200 W, questo piano cottura ad induzione offre prestazioni elevate, riscaldando rapidamente le pentole e le padelle per una cottura veloce ed efficiente. La funzione booster aumenta ulteriormente la potenza quando ne hai bisogno. L'innovativo pannello di controllo Flex Touch offre un controllo preciso e intuitivo della temperatura e della potenza di ogni zona di cottura. Regola facilmente le impostazioni con un semplice tocco, offrendo un'esperienza di cucina senza sforzi. La zona di cottura Flex ti consente di combinare due zone contigue per adattarsi a pentole e padelle di diverse dimensioni e forme, offrendo flessibilità nella preparazione dei pasti. Questo piano cottura è dotato di una serie di funzioni di sicurezza, tra cui la protezione da surriscaldamento e un blocco di sicurezza per bambini. Puoi cucinare con tranquillità, sapendo che la tua sicurezza è la nostra priorità. Con una superficie in vetro ceramico nero lucido, non solo offre prestazioni eccellenti ma aggiunge anche un tocco di eleganza e modernità alla tua cucina. La superficie liscia è facile da pulire e mantiene la tua cucina sempre ordinata. Con prestazioni potenti, controllo intuitivo e sicurezza integrata, questo piano cottura è il compagno ideale per ogni appassionato di cucina. Porta l'innovazione nella tua cucina oggi stesso. Il prezzo è di 299 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Amzkef. Questo piano cottura a incasso offre prestazioni potenti e una serie di funzionalità che rendono la cottura un'esperienza senza sforzi e piacevole. Con 5 zone di cottura ad induzione, questo piano cottura offre una flessibilità incredibile per cucinare piatti di varie dimensioni e complessità. Le zone di cottura possono essere controllate singolarmente, consentendoti di regolare la temperatura con precisione. La funzione booster offre una potenza extra per riscaldare rapidamente le pentole e le padelle, risparmiando tempo nella preparazione dei pasti. Inoltre, con 9 livelli di potenza, hai il controllo completo sul livello di calore per ogni zona di cottura. Il controllo slider è un'interfaccia utente intuitiva che ti permette di regolare la temperatura e la potenza con un semplice scorrimento del dito. È facile da usare e offre un controllo preciso. Il timer multifunzione ti consente di impostare il tempo di cottura desiderato per ciascuna zona di cottura. Una volta scaduto il tempo, il piano cottura si spegne automaticamente o passa alla funzione tieni caldo per mantenere il cibo alla giusta temperatura. La funzione pausa ti permette di interrompere temporaneamente la cottura, ideale quando hai bisogno di rispondere al telefono o fare un altro compito. La funzione tieni caldo mantiene il cibo caldo senza bruciarlo fino a quando sei pronto a servirlo. Sperimenta il futuro della cottura oggi stesso. Il prezzo qui è di 499 euro. Ecco, siamo giunti alla fine di questo video. Speriamo che le informazioni fornite vi siano state utili nella scelta dei piani da cottura più adatti alle vostre esigenze. Grazie per averci scelto e per aver guardato questo video. Non dimenticarti di lasciare un bel like se il video è stato di tuo gradimento. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio. Buona fortuna nella scelta del fornello ad induzione più adatto a voi e a presto per nuovi video utili e interessanti. Grazie per la visione.